Qual è la donna che non ha cura della sua pelle? Lux con la sua schiuma cremosa rende la pelle luminosa e morbida. Ecco perché Lux è la mia prima cura di bellezza. Certo, una bella pelle ti fa essere molto più bella, per questo io uso Lux. Victoria Principal usa Lux. Grazie a tutti.